Gentili telespettatori, buona giornata. Quante volte ho ascoltato la stessa identica frase. Giorgia Meloni fa parte dell'Aspen Institute. Molti sul canale hanno ripetuto questa frase centinaia di volte. Fa parte dell'Aspen Institute. Ma cos'è? Non lo so. Dice, allora perché la scrivi? L'ho sentita, altri la scrivono, io la scrivo anch'io. Ah, ho capito. Secondo molti, molte persone spesso non sanno come attaccare Giorgia Meloni. Per altri politici è molto semplice. Sparano cretinate dalla mattina alla sera. Attaccare chi spara cretinate dalla mattina alla sera è molto semplice. Molto semplice. Racconti la cretinata ed è fatta. Su Giorgia Meloni difficile. Allora vanno a trovare queste cose che non hanno un senso. Giorgia Meloni fa parte dell'Aspen Institute. Ah, ma cosa vuol dire fa parte dell'Aspen Institute? Che cosa vorrei mai dire? Intanto che cos'è questo Aspen Institute? È un'associazione privata, associazione, la cui missione, la mission, come dicono in tante aziende, è quella di promuovere valori umanistici e soluzioni a problemi di carattere politico ed economico attraverso seminari, programmi culturali, conferenze e formazione di una leadership illuminata. Cosa vuol dire? Ci sono un gruppo di persone che si riuniscono alla luce del sole, niente di nascosto, niente di oscuro, misterioso, niente. È un'associazione privata dove si riuniscono delle persone e parlano di temi culturali, economici, sociali. Ognuno dice la sua, perché ne fanno parte diversi tipi di persone. Ognuno dice la sua, uno ascolta, all'altro parla, uno cerca di capire cosa pensa quel leader, quell'economista, quel sociologo, quel filosofo, per arricchimento personale e magari anche per proporre delle soluzioni. Guarda, io penso questo e gli altri possono dire, interessante questa visione, un'associazione privata che promuove valori umanistici e soluzioni a problemi di carattere politico ed economico. Il presidente Isaacson ha definito l'ente così Arricchiamo la vita delle persone e l'aiutiamo a lavorare, in modo più informato e intelligente. Insieme possiamo trovare la chiave di volta verso il successo negli affari, nella leadership, nella vita. Dare equilibrio a valori in conflitto per costruire una base di lavoro comune, restando fedeli ai nostri ideali. Avete visto che non c'è niente di oscuro, misterioso, strano. Lo statuto prevede un presidente, un vicepresidente, esecutivo, un consiglio di amministrazione. I maggiori finanziatori di questa associazione sono la Rockefeller Brother Fund e Ford Foundation. Quindi la Ford, la fondazione Ford e i fratelli Rockefeller. I membri dell'istituto appartengono al gota del capitalismo mondiale. Imprenditori, politici, finanzieri, giornalisti, industriali. La sede centrale è a Washington, ma ci sono sedi in Italia, in Francia, in Germania, Spagna, Romania, Giappone e India. Il presidente di Aspen Italia è Giulio Tremonti, che conosciamo tutti. I presidenti onorari sono Giuliano Amato, che conosciamo tutti, Giuseppe Derito, Carlo Scognamiglio, mentre i vicepresidenti sono Alberto Bombassei, Giovanni Pitruzzella, Gian Felice Rocca, Vicario, Lucio Stanca, Elena Zambon. I membri del comitato esecutivo troviamo Carlo Bonomi, Romano Prodi, tra i giornalisti troviamo Lucia Annunziata, Paolo Mieli, ma anche Luigi Gubitosi, Gianni Letta, che conosciamo tutti, Marco Tronchetti Provera, che conosciamo, Beatrice Trussardi, della Maison Trussardi, Elena Zambon. Secondo quanto si apprende dallo statuto, si privilegia il dibattito e il confronto a porte chiuse, in quanto favorirebbe le relazioni interpersonali e un effettivo aggiornamento dei temi in discussione. L'arrivo di Giorgia Meloni. È entrata a far parte di questo istituto in qualità di socia. Già in passato la guerrita aspirante leader del centrodestra aveva preso parte agli eventi organizzati da Giulio Tremonti, ma in questo 2021 il suo ingresso è stato ufficializzato. I soci ordinari, come spiega il sito ufficiale dell'organizzazione, sono personalità italiane e internazionali provenienti dal mondo accademico, politico, culturale e dei media, chiamati a far parte dell'associazione e del comitato esecutivo per la loro fama accademica ed eccellenza professionale, quindi delle eccellenze italiane. Queste eccellenze, questi esponenti della cultura, della politica, dell'industria, mettono a disposizione dell'istituto la loro competenza e contribuiscono così alla qualità intellettuale e al patrimonio di idee dei programmi di Aspen, collaborando in forma gratuita alle diverse iniziative. partecipano tra l'altro a gruppi di lavoro e task force che affrontano specifici problemi del panorama politico ed economico internazionale. Quindi, cari amici che continuate a ripetere Abeloni è entrata nell'Anspen e qui e di là e di su e di giù. Ma sapete, mi riferisco a quelli che continuano a ripetere sta frottola, ma sapete di cosa state parlando? O ripetete come pappagalli le cose che scrive qualcun altro? Voi sapete realmente quello che vi ho raccontato? Lo sapevate? O ripetevate così, tanto per ripetere come megafoni quello che altri dicono? Che cosa c'è di male in un'associazione di persone che si riuniscono e parlano dei problemi che ci sono in Italia e nel mondo ed essendo delle eccellenze nei vari settori, politici, economici, si scambiano idee con l'intenzione di poter contribuire a risolvere dei problemi, a trovare delle soluzioni, a farli vedere da un'angolatura diversa. Perché un imprenditore magari la stessa cosa vista da un filosofo è un'altra, vista da un economista è un'altra. Parliamo di un problema specifico? E tu ascolti il filosofo, ascolti l'economista, ascolti il giornalista, ascolti l'accademico, ascolti il politico e hai una visione più completa di quel problema. Avete capito che cos'è l'Aspen Institute che fa parte Giorgia Beloni? Mamma mia, mamma mia. Arrivederci a tutti.